Il Natale si avvicina. Se volete i vostri amici pelosi profumati ed in ordine per il periodo natalizio, prenotate per tempo la tua elettatura dagli amici di Isotta a Bedonia, telefonando al numero 329 6484544. Due ragazze in sella ad uno scooter sono rimaste coinvolte oggi pomeriggio in un grave incidente stradale verificatosi nel comune di Medesano. Intorno alle 17.30, per cause al vaglio delle autorità competenti, una macchina e lo scooter sono entrati in collisione tra loro. Immediati i soccorsi. Sul posto si sono portati i militi del 118, l'auto infermieristica di Fornovo, l'ambulanza di Medesano, i vigili del fuoco e la polizia stradale. L'infermiere ha prestato le prime cure alle ragazze. Fortunatamente i controlli sul posto hanno evidenziato che le giovani, malgrado il violento impatto, non hanno riportato gravi ferite. Per loro, infatti, alla fine non si è reso necessario neppure il trasporto in ospedale. Per loro, infatti, alla fine non si è reso necessario.